Il primo intervento di stamattina sarà condotto da Alessio Beltrame, che è un amministratore, anche se ora indossa panni privati, ma è stato alla provincia di Prato, ha seguito per il governo, proprio tutta la questione del governo precedente a questo, tutta la questione del 5G, e quindi lui ci spiegherà come siamo arrivati come Paese dentro a questa cosa. Buongiorno a tutti, tanto grazie di avermi invitato, anzi invitato nuovamente, sono venuto anche l'anno scorso, e quindi sempre con piacere, poi adesso torno anche molto più volentieri a Prato, visto che mi sono ormai trasferito da un po' di tempo a Roma, quindi tutte le occasioni sono veramente magnifiche per me. Compito mio è quello di parlare del 5G, illustrare il 5G, dovrei cercare di dire cos'è il 5G, ma anche cercare di capire quelle che sono le opportunità che il 5G ci può aprire. Allora, se guardiamo questa slide, questa slide ci va a vedere come ogni circa, all'incirca ogni dieci anni, dagli anni Ottanta fino ad oggi, c'è un cambio di generazione rispetto alla tecnologia mobile. Quindi da questo punto di vista il 5G tutto sommato non è niente di speciale, cioè è un qualcosa che è atteso, e alla fine alla base c'è la capacità, in ogni passaggio di tecnologia, di poter scaricare, fare il download, una quantità di dati maggiore, download e upload ovviamente. E affiancato a questa innovazione, diciamo in questo miglioramento tecnologico, poi abbiamo visto che ci sono anche i terminali che si sono evoluti, questi erano i primi terminali degli anni Ottanta, poi ci sono stati i terminali cellulari che ci permettevano di parlare, di scambiare solamente messaggi vocali, SMS oppure voce. Poi la generazione del 3G che ha iniziato, consentiva di iniziare a fare delle navigazioni su Internet, quindi utilizzare anche dati oltre che la voce, fino ad arrivare poi agli smartphone che invece hanno iniziato a cambiare, insomma sono aumentati i servizi, le applicazioni e quindi il modo anche nostro di avvicinarci alla tecnologia. Questo è l'ultimo smartphone che hanno presentato a Barcellona, era particolare, è particolare perché ha lo schermo flessibile, insomma quindi l'evoluzione sta avanzando, entro il 2030 si dice che arriveremo addirittura a una nuova generazione che è quella del 6G, che non sappiamo ancora quali servizi permetterà, si dice che possa il segnale viaggiare anche nell'acqua, insomma quindi ci saranno altre applicazioni. Ecco quindi questa innovazione tecnologica sostanzialmente via via, con il passare degli anni ha consentito di sviluppare più servizi, ma in realtà il 5G non è una normale evoluzione del 4G, non è semplicemente l'evoluzione naturale di una tecnologia mobile. Perché questo? Perché le sue caratteristiche sono caratteristiche che abiliteranno dei servizi che oggi non sono assolutamente realizzabili e che potranno avere un impatto molto forte su tutto ciò che ci circonda. Allora quali sono queste caratteristiche? Le tre caratteristiche principali sono la quantità di dati, cioè più dati, potremo scaricare, utilizzare, far transitare su queste reti quantità molto più grandi rispetto a quelle che possono fare con le generazioni precedenti. Più device, cioè la possibilità con la rete 5G di gestire contemporaneamente una quantità molto grande di device contemporaneamente. e quindi poter in qualche modo, se immaginate queste le applicazioni su una città, una città che in qualche modo è connessa, una rete 5G che è in grado di controllare fino a un milione per chilometro quadrato di dispositivi contemporaneamente. Oggi questo non è possibile. E l'altra importantissima è quella della istantaneità della risposta o bassa latenza, cioè la possibilità per il 5G di avere tempi di risposta molto bassi sotto il millisecondo. Quindi, e questo ovviamente è abilitante per tutte quelle applicazioni, vedremo che sono mission critical. Se arriviamo a utilizzare il 5G per un'operazione a distanza, a chilometri di distanza, un chirurgo che opera a distanza, capite bene che la bassa latenza è qualcosa di fondamentale, ne va della vita della persona in qualche modo che viene operata. Lo stesso per l'auto connessa, l'auto che è autonoma, ha bisogno di una base, quindi nel momento in cui c'è un ostacolo, il tempo di risposta deve essere immediato. Ecco, la combinazione di queste caratteristiche la combinazione di queste tre caratteristiche principali permette di realizzare tutta una serie di servizi e nuove applicazioni che oggi, diciamo, non sono possibili o comunque che sono possibili, ma diciamo con degli effetti e dei servizi sicuramente minori. Quindi sarà abilitante per il tema delle industrie, quindi per quella che è Industria 4.0. Sarà abilitante per tutti i servizi che riguardano la distribuzione e la gestione dell'energia. Sarà abilitante per la sanità, per gli esempi che facevo prima, cioè la possibilità di operare a distanza o di controllare a distanza o di intervenire, che ne so, un altro esempio che è interessante, dall'ospedale è possibile intervenire sul paziente direttamente quando il paziente è in ambulanza. Quindi tutto ciò che consente, insomma, di migliorare, diciamo, gli aspetti, diciamo, della sanità. Ovviamente il tema dell'automotive, quindi dei trasporti fino ad arrivare all'auto connesse e tutti i servizi che si possono realizzare e tutto ciò che gira intorno anche al media e entertainment, cioè la possibilità di avere grandi quantità di dati, grandi video in altissima definizione e quindi abilitano nuove applicazioni come l'applicazione in realtà aumentata o realtà virtuale. Ecco, in questa slide ho provato a sintetizzare queste caratteristiche che, diciamo, che ci permettono, diciamo, di abilitare nuovi servizi. La prima caratteristica, la connettività, per darvi anche delle dimensioni. Oggi è possibile, diciamo, avere una capacità di trasferimento di dati sotto un gigabit al secondo, si può arrivare con un gigabit fino a 20 gigabit al secondo, quindi è un aumento significativo e probabilmente quello della connettività sarà la prima applicazione diciamo, che partirà con il 5G. È sicuramente la più semplice e va a risolvere un problema che in realtà, voi sapete che poi ne parlerò brevemente, nei precedenti anni è partito il piano Bando Ultralarga, cioè un piano che aveva l'obiettivo di connettere tutta la popolazione, tutte le imprese, il 5G riuscirà, diciamo, integrerà l'ultimo pezzetto di questa connettività, cioè in quel piano veniva diffusa la fibra in modo capillare, il 5G con la parte mobile si può arrivare a dare connessione molto veloce a tutte, veramente, a tutte le abitazioni. Quindi connettere in modo capillare perché capite che ogni tipo di servizio per diventare un servizio come dire, che cambia e che incide nella vita delle persone deve essere disponibile a tutti. Questo è il primo principio, cioè la connettività è un principio che, è un principio di democrazia. Se la connettività è a disposizione di tutti, tutti hanno pari opportunità, se invece solamente nelle grandi città o in alcuni contesti la comunità si diffonde, è chiaro che viene meno questo principio di democrazia. Mobilità e trasporti. Anche qui oggi ci sono dei servizi ovviamente che migliorano diciamo l'aspetto, il rapporto con il trasporto e la mobilità, ci sono informazioni disponibili sul traffico, su richiesta dell'utente, domani con il 5G sarà possibile arrivare fino alla guida assistita, veicoli che sono in rete, connessi fra loro, che dialogano fra loro, che si scambiano informazioni, appunto con latenze molto basse, sotto millisecondo, quindi sotto quella che è anche la capacità umana di rispondere a una sollecitazione e una localizzazione molto precisa sotto 10 cm che è un altro aspetto decisivo per certi tipi di servizi che sono mission critical. La sicurezza pubblica, oggi si può fare videosorveglianza, domani si può fare una videosorveglianza in altissima definizione, si può arrivare a fare il riconoscimento facciale in tempo reale e quindi avere delle reazioni in tempo reale rispetto per esempio a situazioni critiche, situazioni di pericolo. La produzione, certamente l'automazione di processi è un processo che dura ovviamente da anni, da decenni, certamente con il 5G, con l'introduzione della robotica, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, sarà possibile arrivare a dei processi di automazione ancora più efficienti e una delle caratteristiche che probabilmente sarà sfruttata anche in questo ambito è quella della possibilità di gestire più dispositivi contemporaneamente. Tema dell'energia, l'ho detto oggi, si fa la telegestione e il telecontrollo della rete elettrica, con il 5G l'implementazione delle smart grid, del monitoraggio della rete in tempo reale diventa un qualcosa di realizzabile. E la sanità, oggi si fanno delle cose con il digitale, qui ho messo l'esempio del fascicolo elettronico, domani sarà possibile in qualche modo curare in modo diffuso le persone anche a distanza grazie a servizi che sono come devono essere per certi tipi di applicazione ovviamente in alta affidabilità. Una panoramica di quella che è stata la strategia che è partita qualche anno fa e che sta proseguendo in questi anni. Vi dicevo, alla base di tutto questo c'era il piano bandolatro larga, cioè la possibilità di diffondere la fibra, di diffondere le connessioni con alta capacità perché il 5G non è semplicemente una rete mobile come quelle precedenti ma in realtà il 5G è una rete molto più complessa, è una rete che tiene insieme la parte mobile, la parte di trasferimento diciamo con le onde radio e la parte di fibra, quindi è una rete diciamo che tiene insieme queste due componenti. Quindi c'è stato il piano bandolatro larga che ha, diciamo, consiglio di far partire il processo di diffusione della fibra capillare appunto per tutti i cittadini per poter abilitare abilitare tutti al poter utilizzare i nuovi servizi sono partite le sperimentazioni nel 2017 nelle prime 5 città Prato è una di queste ma già nel 2018 e 2019 altre città altre iniziative private di operatori o di altri soggetti penso a Torino penso a Roma penso a Cagliari Lecce Catania sono partite per andare a sperimentare non tanto la rete perché la rete non ha bisogno di sperimentazione la rete è un aspetto tecnologico la tecnologia aumenta la rete si diffonde gli operatori possono andare a realizzarla ma per sperimentare i servizi per capire prima di altri quali servizi possiamo realizzare per poter diciamo migliorare la vita la vita di tutti i giorni e le possibilità per le nostre per le nostre imprese l'ultimo atto è stata la legge di bilancio del 2018 che ha consentito di liberare quelle che erano le frequenze utilizzate che ancora sono utilizzate dalla digitale terrestre che conosciamo liberarle e metterle a disposizione per il 5G a che punto siamo oggi oggi diciamo è stata fatta l'asta per le frequenze un astra tra l'altro ha avuto un successo diciamo oltre le aspettative 6,5 miliardi sono stati incassati dallo Stato dagli operatori e questo lo dico perché dà un po' una misura dell'importanza di questa di questa di questa di questa tecnologia i primi effetti si vedranno nel 2019 nel senso che le frequenze sono già a disposizione degli operatori che adesso le stanno usando in modo sperimentale ma che hanno già un piano di diffusione diciamo della rete della rete 5G sulle prime frequenze sono quelle della della banda 3.7 3.8 che sono già disponibili poi dopo il 2022 saranno disponibili le frequenze 700 MHz che sono appunto le frequenze che oggi sono utilizzate dal digitale terrestre quindi ecco questo è per dare un'idea che diciamo l'avvio dei primi dei primi servizi diciamo avverrà insomma entro dopo il 2020 qui avevo preparato delle slide perché dopo dire beh dopo aver detto che cos'è il 5G e quali sono le sue caratteristiche secondo me è giusto anche fare una riflessione su quelle che possono essere le potenzialità cioè gli impatti socio-economici del 5G che poi alla fine è questo diciamo che secondo me deve importarci più di tutto allora qui ho messo questa slide quel grafico che vedete è l'indice DESI è l'indice che della commissione europea in cui si misurano i livelli diciamo di digitalizzazione dei vari paesi europei l'Italia non è messa benissimo ha recuperato qualcosa negli ultimi anni in modo particolare lo vediamo sopra sulla parte della connettività perché il piano banda autolarga ha avuto un effetto un effetto positivo però siamo ancora incrociando tutti diciamo gli indici che vengono i parametri che vengono misurati siamo ancora indietro allora ormai tutti pensano in Europa e non solo e non solo in Europa qui c'è diciamo il commento del World Economic Forum che il digitale sia profondamente trasformando le nostre società quindi sarà il digitale veramente è il digitale innovazione tecnologica è un driver diciamo di crescita e sviluppo è evidente che un paese come il nostro forse più di altri deve diciamo anticipare i tempi perché ha da recuperare del terreno ed allora se uno se non ci applichiamo su questo poi rischiamo e questi poi indici noi riusciamo a migliorarli nel tempo impatto economico beh ci sono su internet si trovano tanti studi insomma che cercano di andare diciamo a dare un'idea di quello che può essere l'impatto economico qui ce n'è c'è Qualcomm uno di questi che ho trovato che mi sembrava interessante che dava un'immagine al 2035 in cui si vede un aumento certamente un aumento del PIL globale un aumento dei posti di lavoro e diciamo un aumento in questione di quelli che sono i beni i beni e i servizi che andiamo a produrre grazie alla tecnologia 5G anche l'Unione Europea si è misurata su questi tipi di impatti misurando diciamo appunto un impatto economico quindi un valore diciamo in miliardi di euro del 5G per il nostro paese e per gli altri paesi e anche dei posti di lavoro creati 186.830 di impatti occupazionali al 2025 però quando guardiamo in modo particolare quando guardiamo il tema dell'impatto economico diciamo si trova tutte immagini positive cioè il 5G è visto comunque una tecnologia che avrà un impatto sempre positivo quando invece si vanno a vedere altri aspetti come quello dell'occupazione in realtà non è così si trovano diciamo delle impostazioni che fanno vedere la positività di questo impatto ma ce ne sono anche altre invece che fanno vedere anche dei rischi che abbiamo davanti da dover gestire su cui ragionare per esempio c'è uno studio importante dell'Ox che fa un ragionamento che non riguarda in realtà il 5G ma riguarda l'innovazione l'automazione la robotica in generale fa vedere come in realtà l'innovazione porterà a degli impatti si dice che circa il 14% dei lavoratori sono ad alto rischio di perdere il loro lavoro perché il loro lavoro sarà sostituito da macchine che un 30% avrà dei cambiamenti nella modalità di lavorare che circa la metà dovrà fare della formazione per poter diciamo adeguare le sue conoscenze a quelle che sono a quello che è l'impatto dell'innovazione tecnologica non diciamo niente di nuovo nel senso che questi aspetti sono stati vissuti fin dal 1800 quando c'è stata la prima industrializzazione anche lì diciamo c'era l'impatto delle macchine e la domanda era ma le macchine porteranno ruberanno lavoro o creeranno nuovo lavoro quindi il tema c'è il tema e che secondo me fondamentale è la transizione cioè il periodo in cui dobbiamo adattare perché è chiaro che non possiamo frenarla in innovazione innovazione avanza indipendentemente diciamo ma dobbiamo cercare invece di come dire non subirla ma governarla altri impatti questo è un altro studio fa vedere come c'è una opportunità molto importante per la nascita di nuove start up per tutti quelli che sono in grado di produrre servizi qui c'è un aspetto importante che volevo sottolineare che era legato un po' anche al tema delle sperimentazioni perché facciamo le sperimentazioni beh perché quando il 5G sarà realtà i servizi saranno servizi in 5G che miglioreranno la qualità della vita che miglioreranno la gestione della città che daranno opportunità alle imprese tutti adotteranno questo tipo di tecnologia il tema è noi saremo un paese che semplicemente adotterà questa tecnologia realizzata da altri o saremo anche un paese che è in grado di crearli di pensarli progettarli realizzarli e quindi esportarli questi servizi alla risposta a questa domanda è collegata anche ai posti di lavoro che noi riusciamo all'impatto che avrà su di noi la nuova tecnologia io avevo una slide ma secondo me l'ho persa ma ve la rappresento lo stesso era la slide di un libro un libro di Enrico Moretti che è un economista che insegna all'università americana ha scritto qualche anno fa questo libro si chiama la nuova geografia del lavoro lui fa un approfondimento sugli Stati Uniti e vede l'impatto della globalizzazione dell'innovazione negli Stati Uniti e fa vedere e dimostra con delle tabelle con dei dati statistici che in realtà l'America non è tutto uguale gli Stati Uniti non sono tutti uguali quindi sono gli Stati Uniti della Silicon Valley o di Seattle dove quei territori hanno creduto fortemente hanno investito sull'innovazione hanno investito sulla formazione e come sapete si è creato un ecosistema dove tutte le grandi aziende grandi OTT le over the top sono lì e quindi in quei luoghi c'è grande ricchezza sono aumentati gli stipendi non solamente a quelli diciamo alle persone direttamente a quelli che lavorano in quel settore ma anche ovviamente nell'indotto intorno mentre c'è un'altra America quella della zona di Detroit o comunque delle città che hanno subito invece la globalizzazione non hanno saputo contrastarla dove invece si è creato un effetto opposto cioè un disastro sociale abbassamento degli stipendi case in vendita allora questo vuol dire che l'innovazione non ha lo stesso impatto in tutti i territori sta ai territori capire come diciamo poter cavalcare questa opportunità 5G il 5G in realtà vi ho rappresentato è l'infrastruttura abilitante è un'infrastruttura innovativa perché ha delle caratteristiche importanti che vi ho fatto vedere ma in realtà il 5G da solo non avrebbe un effetto il 5G in realtà è abilitante per l'intelletto delle cose cioè riesce a mettere in comunicazione non solamente le persone come nelle generazioni precedenti ma riesce a mettere in comunicazione le persone con le cose e le cose fra loro questo diciamo aumenta le possibilità di creare servizi innovativi ma affiancato al 5G in realtà c'è un altro elemento che è importantissimo che è l'intelligenza artificiale il 5G e il fatto che c'è l'intelletto delle cose consente di cioè genererà quantità enormi miliardi di informazioni che transiteranno che viaggeranno nella rete ed è evidente che tutta questa mole di informazioni non sono informazioni che sono gestibili dall'essere umano c'è bisogno di algoritmi c'è bisogno di algoritmi complessi dell'intelligenza artificiale che non è una nuova tecnologia l'intelligenza artificiale si parla dagli anni dagli anni 60 ma oggi l'intelligenza artificiale diventa determinante diciamo in qualche modo è abilitata dal 5G e a sua volta diciamo diciamo consente diciamo di sviluppare questa tecnologia altra tecnologia importante legata è la blockchain cioè la blockchain è un cambio di paradigma rispetto diciamo a una situazione anche attuale in cui le informazioni si stanno concentrando nel cloud si stanno concentrando in grandi centri cioè Amazon detiene di gran lunga diciamo le informazioni di tutti nei suoi nei suoi server con la blockchain invece è una tecnologia che consente invece di gestire queste informazioni in modo distribuito in modo in modo sicuro ed è una tecnologia che potrà avere degli impatti importanti anche prima si parlava dei dati dei dati dei dati personali avrà ci sarà la possibilità appunto di gestirli in modo diverso in modo più sicuro in modo distribuito proprio perché il 5G è una rete molto capillare che quindi porta diciamo dal centro verso la periferia le informazioni e quindi anche la gestione sarà una gestione più periferica l'ultimo elemento è questo è la cyber sicurezza allora un mondo in cui tutti sono connessi tutti gli oggetti sono connessi tutti diciamo i servizi anche critici sono governati da algoritmi o sono sono gestiti diciamo digitalmente è chiaro che il tema della cyber sicurezza è un tema sempre più importante di cui sentiremo sempre più parlare che sarà centrale perché è evidente che se in questi giorni c'è stata questa tragedia dell'aereo è caduto in quel caso è stato un algoritmo per l'appunto che sembra che non funzionasse bene comunque non consentiva al pilota di intervenire potete immaginarvi la possibilità che ci sia qualche hacker che possa introdursi in un sistema di un aereo o di un'ambulanza che è connessa e quindi il tema della cyber è un tema sempre più decisivo su cui ci dovremo con cui ci dovremo misurare di un'ambulanza di un'ambulanza di un'ambulanza di un'ambulanza di un'ambulanza che Grazie a tutti